Pensa alla vita guida con la testa è la campagna per la sicurezza stradale promossa dall'ANVU, associazione professionale della Polizia Locale d'Italia, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sia i residenti che i numerosi turisti presenti nelle località di vacanza. Su alcuni temi della sicurezza stradale, come l'uso del casco, delle cinture di sicurezza, dei sistemi di trattenuta, la corretta guida di ciclomotori o motocicli, nonché sui comportamenti a rischio dovuti alla guida in stato di alterazione da alcol e droghe, con l'obiettivo primario di ridurre il numero di incidenti e soprattutto di vittime. Dall'Adriatico alle Dolomiti è lo slogan che ANVU ha voluto creare per dare giusto significato all'impegno assunto nel portare la sicurezza stradale nelle maggiori località turistiche del litorale e della montagna Venete. Arriva quindi a Chioggia, sul boulevard di Piazza Italia giovedì 1 agosto dalle ore 20 alle ore 23. In tale occasione sarà vietato il traffico nel tratto di Viale Veneto che va da Piazza Italia a lungomare e sarà vietato il parcheggio sugli stalli che si affacciano su questo tratto. Divieto di transito anche in Viale Trieste da Viale Po a Viale Veneto. Lo svolgersi della manifestazione ci viene reso noto a poche ore dall'incidente che ha costato la vita a un giovane tra le strade cittadine. Una perdita per la famiglia, gli amici e per chiunque lo conosceva. È fondamentale continuare a sensibilizzare tutti coloro che guidano un mezzo dell'importanza di rispettare le norme anche per la propria sicurezza. Non solo le auto, i mezzi pesanti, le moto ma anche le bici per le quali non si può più parlare di mezzi a bassa velocità. Il rispetto del corretto senso di marcia, mantenere la propria corsia, il rispetto delle precedenze e dei limiti, il corretto uso del casco, delle cinture di sicurezza sono norme fondamentali che vanno ripetute perché tutti capiscano l'importanza di rispettarle. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri BRI Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.